Ci troviamo su Via Giulia, zona dove era prevista l'estensione del Palazzo dei Tribunali, detta anche Curia Iulie. Il progetto di Papa Giulio II e del Bramante è stato interrotto dopo la prematura scomparsa di entrambi. Del progetto rimangono queste pietre che si possono vedere sulla facciata dell'hotel indico Rossi e Giorgio di Curio Daniele sono il concierge. Ora queste pietre sono meglio conosciute dai romani come i sofà di viaggio. Grazie a tutti. 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 Ciao, sono Irene, la receptionist dell'hotel indico Rossi e Giorgio. Col backsharing le bellezze di Roma sono ancora più belle. Ci sono molti luoghi segreti all'hotel indico Rossi in Giorgio. pensate questo era un offertorio veniva utilizzato dai nobili per fare la carità in pratica i nobili donavano il pane utilizzando questo offertorio. tant'è che la chiesa di un'hotel indico di Roma utilizzare la chiesa di San Biagio della Pagnotta. Ci sono tanti misteri all'hotel Indigo Roms in Giorgio Ma Antonio Incarico li conosce tutti Grazie a 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 tutti